La Guardia di Finanza di Giuliano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone. Tra queste, due sono operai della Flegrea Lavoro Spa, la partecipata del comune di Bacoli, incaricata della gestione dei rifiuti nella città. Dalle indagini condotte dai finanzieri della tenenza di Baia sarebbe emerso un sistema di corruzione nel quale sono implicati alcuni dipendenti dello smaltimento e gestione dei rifiuti, con la complicità di altri soggetti. Gli operatori ecologici avrebbero ritirato privatamente i rifiuti da alcuni commercianti e ristoratori del comune Flegreo dietro col rispettivo economico. Per farciò i dipendenti della partecipata si sarebbero avvalsi anche di personale estraneo alla ditta e della complicità di alcuni dipendenti dell'impianto di Giuliano in Campania. I cumuli raccolti sarebbero poi stati scaricati anche in alcuni siti autorizzati, con conseguente onere economico per la stessa Flegrea Lavoro Spa. Grazie. Grazie.